Pezzone ragazzi del 1999, Butterfly, Crazy Town, anche se io distrattamente avevo letto Lazy Town, ho detto che è? Si è impazziti! Vieni a Lazy Town, un posto che ti piacerà Era un cartone, era una serie islandese, se non sbaglio, sì sì sì, che c'era lui che era Sportacus Sportacus che era il produttore, autore e anche attore Tutto il concetto era per invogliare i ragazzi a fare sport, perché il problema era i ragazzi che non fanno Io ricordo che lo guardavano i miei figli da piccoli e ricordo che il cattivo si chiamava Robby Ranci Robby Ranci Robby Ranci I baffi I baffi Ma sì, no, sembrava Dusterly, no? Sì, sì, uguale Danilo, mai visto Lazy Town? Tu potresti essere sport, quello sportacus italiano sei tu, Danilo Tutti male! Tutti male, ma veramente tutti Sì, sembra che io romanzo questa cosa, ma proprio non riesco negli sport, nel basket Ogni settimana, ogni tanto vado a giocare con Giorgio e Patrizio Per fortuna non c'è l'arbitro Tempo tre minuti, cinque falli fuori Non abbiamo citato l'autocanestro Ricordiamo la prima partita, hai tirato la palla, ma nel tuo canestro? No, purtroppo non era la prima partita, era proprio durante il campionato, teoricamente mi allenavano anche Durante la settimana partecipavo agli allenamenti Come hai fatto a sbagliare canestro? Non lo so, ero preso dall'ansia L'emozione, l'ansia Ma tra l'altro mi dici che hai fatto pure autocanestro, non è che hai provato a tirare No, l'ho proprio fatto Ah, quindi la notizia è che hai fatto canestro Ha fatto canestro, ma è un 100% di realizzazione E vi dico che è un punto che viene a segnare Certo, certo E' come l'autocanestro Quindi penso che sono stato l'unico, una partita proprio da... No, l'ho visto anche recentemente rimbalzato sui social, l'ha fatto qualcun altro ma anche in maniera ironica Quindi non... No, no, è successo veramente recentemente che si erano sbagliati il campo da dove dovevano attaccare, da una rimessa E giustamente l'arbitro fa presente... Guarda che vi siete fatti autocanestro Allora lo vedi che posso Tutta la squadra se sbagliate Va bene, andiamo con la sigla In diretta su DJ ogni mercoledì Noi siamo sempre qua, tu dove vai, stai qui Il speaker preferito da tutto allo stimale Con i tre zozoni, solo gente che vale Oh, 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 bevevo una pira Aguanti, aguanti, oh Danilo Aguanti Danilo Partiamo subito con i ciamafatto caso A proposito di sport, ma in questo caso di campioni Ho un ciamafatto caso dedicato a Special Olympics Che ringraziamo, salutiamo E auguri per i quarant'anni Siamo stati alla celebrazione dei quarant'anni Special Olympics Ringrazio il trio e ringrazio Special Olympics per avermi reso partecipe Beh, siamo noi che ringraziamo te perché tu hai partecipato anche in Vecenostra In tanti momenti Anche lì ho partecipato in parecchi sport e mi hanno massacrato Massacrato A proposito, Linus vuole il premio Perché hanno premiato noi e Radio DJ Ce l'ho a casa Poi forse ho parte Poi forse C'hanno fatto caso Durante la celebrazione dei quarant'anni Special Olympics C'era il cooking show Ah, c'è il cooking show C'hanno andato via Io sono stato fino a mezzanotte Ho mangiato, ho bevuto C'hanno fatto caso Durante i cooking show A nessuno A nessuno gli interessa A né del cooking A né del show No, no Volevo niente Salute l'impianto Salute l'impianto Di colpianto Ma questo si sbriga Ma voglio fare C'è questo chef poverino Col microfono Che si sente pure male E cerca di argomentare il piatto Ma tutti vogliono mangiare E quindi È un po' come quando ti presentano il piatto Allora qui abbiamo che tu sei Sì Con fame Sì 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 Attenzione È vero Senti L'ho notato Questo l'ho notato Sabato Domenica Scusa Ci ha mai fatto caso Che i calciatori Quando vanno alle interviste Nel dopo partita C'hanno sempre questa voce Un po' Cioè la cantilena Fanno Sempre monocorda E non dicono mai niente di interessante Beh ovvio Tre parole È stata una partita difficile Adesso siamo in vantaggio E cerchiamo nel secondo tempo Di mantenerlo Dobbiamo dare il massimo Quella peggio Quella a metà tempo Poi quando smettono di giocare a pallone Fanno le seconde voci tecniche Nelle telecronache E lì sono perfetti Marco Parolo Marco Parolo Che io me lo ricordo a fine partita Ma lui gli andava proprio Poi usano anche dei termini complicati Tu dici Ma che sono Cambiano proprio pelle E' vero Cioè mi ha fatto caso Che nel periodo in cui Ti sei un pochino ingrassato Insomma Hai messo un po' di panza E ti vanno le magliette corte Visto Adesso me lo fa Mi fanno le magliette Di battendina Io do sempre la colpa All'asciugatrice Dai la colpa Scusa Vabbè Però è vero Ci siamo fatto caso Che dai sempre Dai sempre la colpa All'asciugatrice Io manco ce l'ho Asciugatrice Vabbè però È la dimostrazione Che c'hanno Io sempre Dico eh Mi va accorta L'asciugatrice Maledetta asciugatrice Con cosa torniamo Danilo? Con notizie belle belle Ne abbiamo bisogno Intanto arriva Mina con Blanco Rifaccelo Danilo Faglio Vai Vedete che è il Vangoni È il Vangoni È il Vangoni Del Trio Medusa Sì sì È un talento Danilo È proprio quel timbro lì È veramente Canta Balla Tutto Fatto male Io faccio tutto Fatto male Ma lo faccio Scrive male Legge male Tu hai un segreto Ha quell'ingrediente lì Che è l'assoluta Assenza di vergogna Ma sì E questo ti spinge Olt Che ti accomuna Tutti noi Ma cambiamo Registro Cambiamo Io sono come i calciatori Attenzione Registro con agissola Attenzione Arriva la rubrica notizie Belle belle Ricordiamo sono Fake news Belle A fin di belle Non fanno male a nessuno Non sono neanche i fake news Perché sono pure un po' veri Ragazzi Io le vado in giro Le leggo Sono false o sono vere Un po' vere Ma come fanno ad essere un po' vere Nel mio immaginario Prima notizia ragazzi Nel mio immaginario Ho fatto l'amore Con un sacco di donne Io manco nell'immaginario Ho fatto l'amore con le donne Perché è faticoso Non me va Non c'ho paura De far brutta figura Anche nell'immaginario E quindi sei super titolo Notizia incredibile Una equipe di studiosi Scienziati Dei cervelloni Sì Provenienti da tutto il mondo Hanno trovato Sembra assurdo ragazzi L'equazione matematica Che ti dice La quantità perfetta Di patate Al forno Da fare Quando ti arrivano ospiti A casa Ragazzi Non si potrà mai sbagliare Non bastano mai No Oppure le fai troppe Cioè Tu passi Troppe e difficili Troppe e difficili Abbastanza Oppure Perché le vedi E dici Sono troppe Se avanzano Se avanzano Significa che fanno schifo Tu dico Che la gente non sa Però questa è l'equazione Perfetta Capito Così Tu sai La quantità giusta E qual è questa equazione? Mettile E non va Cioè Andatevi a comprare il giornale Comunque Sto riflettendo Sì Facevano schifo Le ho fatte l'altro ieri Facevano schifo Comunque dovete mettere Il numero di persone Il peso delle persone Il posto Perché anche quello E va arriva La quantità perfetta È incredibile È bello Quando c'è le patate dal forno Le osservazioni di mio figlio Tu ne prendi un po' Rimane mezzateglia E poi lui fa Papà le finisci? Ragazzi Mezzateglia Seconda notizia È stata inventata La prima pasticca Depilatoria Al mondo Ragazzi Tu la prendi La prendi Tipo E ti cascano i peli Ti cascano i peli Immediatamente Ma tutti È pericoloso No no Ti cascano la papù Solo a menti Peli superfi Ah C'è scritto Per peli superfi La pasticca Per peli superfi L'unica controindicazione Che se ne prendi troppa Ti potrebbero cascare pure le orecchie Però Ti cade tutto ciò Che è fuori dal profilo del corpo In questo momento In questo periodo È importantissimo depilarsi Perché se ci sono pubblicità ovunque Depilati Depilati Si fa caldo Però non lo fate Tipo Che ne so State in macchina La prendete Non depilate Non macchina I peli sport Anche se non gli è tanto Qualcuno si fa la barba In macchina Lo vedo La mattina È stata accettata La candidatura Come sport ufficiale Le olimpiadi Di Los Angeles Le prossime Quelle dopo Che ci saranno Della briscola E del 3-7 Ragazzi È stata accettata È stato valutato Come gesto complesso E faticoso Quando carichi a bastoni Quando Lasso a bastoni C'è un problema Esatto C'è un problema Di esclamazione La CIO La CIO L'ente Il CIO La CIO La CIO La CIO La CIO Un'altra cosa Di qualsiasi lavori Oppure la CIO Intesa La Comitata La CIO La CIO Io volevo dire CIO Ma no Insomma Il CIO Ha detto Sì Lo potete fare Ma non dovete dire Torpiloqui O cose E allora Non sarà televisivo Secondo me La federazione Cos'è che non dovete dire Torpiloqui Non torpiloquiate Torpiloqui Sono tanti Tanti E la federazione Sopra una zona di Roma La federazione La federazione italiana De briscola Ha detto Ah Allora Non partecipiamo L'ultima notizia Arriva sempre direttamente Dall'Australia Ragazzi È stata scoperta Una nuova razza Di zanzara Purtroppo È fastidiosa Funge Proprio come tutte le altre zanzare L'unica cosa È che quando la schiacci così Esplode ragazzi Che figo Fa un botto Sì Tipo Sì no ma fa proprio È pericoloso Perché Proprio tipo un mefisto È un sistema Di difesa Fa un botto Il raudo Il raudo Dici Fa un botto Quindi devi sottere Il mefisto Io non capivo Il mefisto è un tipo di Cioè Tu immagina Quelli che costavano meno Tu sei la Ciacchi con la Capodanno Te porti un po' di zanzare Le ciacchi con la ciavata Boom Boom Così fai È anche ecologico Sì è ecologico Levi le zanzare Che sono Non si spaventano Molto bene Danilo Guarda È stata talmente Bella come prima Che io non ho detto Torpiloqui Ragazzi Ho detto da Torpiloquare Va bene Torpiloquare Poi Cosa Torpiloquare 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 Parag 것을